calignaia 21 settembre 2019 un'altra bella giornata di mare acqua fresca ma non ghiaccia con la muta shorty ci stava in acqua piuttosto bene 20 vasche fatte senza nessun particolare sforzo mare calmo zero meduse il sole era un po fiacco ma nel complesso sul mare ci stava bene contemporaneamente oggi 21 settembre 2019 a largo di calignaia c'era una esercitazione della guardia costiera con un elicottero che ronzava sopra il mare poi si era abbassato sino a raggiungere l'acqua facendo scendere un sub per poi ripescarlo un saluto ciao ciao